Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video record metagame OCG Vediamo che cosa sta succedendo dall'altra parte del gioco sostanzialmente E vi devo fare una domanda, magari volete vedere anche il meta Asian Ang per caso? Perché effettivamente quando vedete al volo ci stanno, ci stanno come possiamo vedere qui Avevo detto che era abbastanza interessante perché al momento non c'è una Banned Quindi puoi giocare triplo Lightning Storm, puoi giocare quello che ti pare, triplo Rota Giocano triplo Rota, quindi di roba sbagliatissima c'è Sono tutti mazzi a piena potenza effettivamente Cioè, triplo Astrograph, triplo Colled Insomma, di robina in realtà ce n'è un po' Triplo Duster, ovviamente non fa molto testo Non fa assolutamente molto testo per il nostro meta e magari quello classico Però non so se magari ogni tanto volete vedere che cosa succede E qui io al limite vi faccio vedere delle liste al volo proprio proprio così Inferno porre SQS con triplo Rota comunque non c'è senso Quindi al limite fatemi sapere Se no continuiamo sempre al classico CGT-CG normale, assolutamente Comunque prima di iniziare come sempre ragazzi mi invito a scrivere uno secondo dalle primarie sempre aggiornate Ricordo che l'iscrizione ci ha aiutato tantissimo Io vi ringrazio, detto ciò partiamo Allora, Finesmith ha preso Wildwoods Gli ha spezzato la schiena e l'ha messo da una parte Perché a quanto pare Wildwoods, cioè se gioca, dovrebbe giocarsi con Centurion Quindi è una cosa sola Però Finesmith gioca con 4-5 carte ma è enorme Più che altro perché è engine sostanzialmente Gioca 4, 5 e 6, 7-8 carte Sono quelle che sono uscite fondamentalmente Però è l'engine overcrippato Quindi Finesmith e Hubel Sì Finesmith e ogni tanto Cambio Vige l'uguaglianza, ogni tanto cambio Allora, come possiamo vedere, ripartino Hubel sempre classico Finesmith sempre classico Perché comunque si giocano sempre i 3 di lui e il Mono Fable A volte la magia può essere in 1x o in 2x E il resto poi è tutto 1x di extra deck Si potrebbe giocare ogni tanto anche l'altra fusione Però si gioca sempre questa qui Di fare curare comunque risorse Quindi è quella lì che si gioca sempre di più Hubel è forte È forte perché tipo Finesmith ti fa sempre partire Quasi sempre partire Perché magari c'è quella volta in cui non riesce a partire Con Snake Eye è ancora più forte ovviamente Però pure con Hubel può dire tranquillamente la sua Questa è stata la v-jump più sottovalutata di tutte Però Avevamo detto anche noi che Attenzione potrebbe fare qualche cosina Non sottovalutiamola Perché comunque è generica Ti dà un link in meno Qualora giochi la godess E la godess la giochi Quindi Cioè puoi utilizzare due mostri dell'oppo Sostanzialmente E... Finesmith Snake Eye Pure questo sempre con la... Sì vedete gioca due magie Cambio giusto errato di ht ogni tanto Triple Popolus E poi vabbè Quella lì sostanzialmente Ok Il version si gioca così mai Per reparto Extra Sempre questo qui Si vanno a giocare meno carte fuoco di extra Anche la prince Ah infatti no Questa è la princess Poi abbiamo sempre Runic Runic molto stun Con qualche floodgate Un po' qui un po' là Scontro Gozen che in realtà ci sta benissimo Perché comunque non è più tutto un attributo E quindi può essere interessante Attivarlo nel momento giusto Soprattutto per un spaccatore dimensionale E... Può fare veramente veramente male Quindi ci sta corruzione oscura Grande carta Ninja Così a caso esce un ninja Che fa un quarto posto importante Inaspettato Inaspettato perché ninja Ha anche un mazzo abbastanza particolare Che devi saper giocare Quindi molto bene Va a giocare anche uno super poli Quindi fare un quarto posto con un ninja È veramente Cosa buona L'avevamo visto un bel po' di tempo fa Pure qui da noi Che aveva fatto delle cose Molto molto buone Però insomma Non me l'aspettavo Ogni tanto ci sono dei ritorni importanti Ancora Runic Che è la soluzione più classica Per affrontare questo meta A quanto pare E poi abbiamo Sentui non senza Why Woods Si sentui non puro Che reparto di sincro Che reparto di sincro Veramente enorme Veramente enorme Con il sento di un'oculare di nuova L'altra tuner Non ho una per Che ci sta Non ho una per Insomma Devo dire Poi Tempai Dragon Sempre Che è diventata una soluzione interessante Come abbiamo visto Si gioca abbastanza Poi Vediamo qui Finesmith Finesmith Tempai Finesmith Tempai Finesmith Centuron Tempai Runic Finesmith Yubel Finesmith Yubel Oros Chimic Puppet Dragon Finesmith Snekay Voseless Tempai Dragon Nenio che possiamo dire Tempai Finesmith Che comunque Va Essere il mazzo più forte Sostanzialmente Lo sapevamo comunque Tempai Dragon Quest'HT Qui Finesmith Millennium Snega Altro engine Exodia Che però magari Può diventare un po' Troppo pesante Forse Forse lascerei Soltanto i Finesmith Non andrei a Accozzare anche Millennium Finesmith Nenio che hai Centurion Mamma mia No perché I sincroni sono enormi Sono tutti quelli più grossi Che ci possono stare Quindi Tempai E Vapini Ok andiamo a vedere World Championship Asia Qualifier Con Sneakai Yuvel Sneakai Evil Twin E Fire King Fire King è sempre molto curioso Allora andiamo a vedere Sneakai Totalmente puro Sneakai totalmente puro Senza nessuna Macchinazione in mezzo Senza neanche Finesmith E solo Magician Soul Che va A dare un po' Di Di sostanza Insieme al Chicken Game E ti fa comunque partire bene E Mach Mammi E ovviamente La Top Hut Top Hut Forte Sarà Una Seable Giocata anche qui Soprattutto in mazzi Come questi Come Aspetta Ancende Ancende Yuvel L'abbiamo visto anche prima Comunque Molto molto forte Gioco Super Poli Di side Angel of Blue Tears Sta iniziando ad essere veramente Veramente Giocata Anche perché comunque Fai danno E quindi Ti devo dire Puoi anche Andare a chiudere Sostanzialmente così Però Era anche più per Settare sostanzialmente A Pointer Oppure La Dimension Barrier Quello che ti serve Quindi diventa una soluzione Molto pericolosa Ancora Finesmith Snake Eye In realtà Devo essere sincero Finesmith Piace Perché L'engine è quello lì Che ti Ti dà tanto fastidio Però non so Perché mi piace Sarà l'artwork Sarà il fatto Che sono solo 4 carte Di main E qualche cosa Di extra Questo non ve lo so dire Però Non so Mi piace Tra l'altro Tra la Maddox And the guy Chase Che comunque È È una soluzione Da non sottovalutare Perché la carta Comunque Non è male È abbastanza forte Ha preso piede Un po' di tempo fa Che veniva giocata sempre Poi è stata un po' Immarginata Un'altra volta Non sempre viene giocata Però Insomma Io La terri d'occhio Evil Twin Finesmith Unchained Giustamente Tra l'altro Ho tutte le ristampe Che ci hanno avuto Da Evil Twin Ti fai Tra i Tattico deck Di questo qui Ci fai Ci metti qualche Qualche Aggiunta Comunque Vabbè C'è Varano Bello Più Nibiru 3HT Poi ti tripla Chi si kill Tripla Lila Mono Lila Treat Ok Effettivamente Evil Twin Link Con Gli Unchained E Vediamo Vediamo Può essere Può essere Buono Cioè Può essere Molto buono In realtà Poi sono anche Demo di luce Quindi Vi devo dire Vi devo dire C'è alcuni Non tutti Però Insomma Demo di luce Ce l'hai Quindi Evil Twin Finesmith Trova sempre Il loro Trovano Comunque Qualcuno A cui Anganciarsi Diciamo così Snake Fire King Fire King Ha praticamente Sempre le stesse Carte Tralasciando La doppia Consort E il mono Garonix Che alla fine Non è così pesante Come uno poteva Aspettarsi Quindi Va bene Va bene Secondo me Questa sarà Una grande carta Sarà una grande carta Qui Quindi Occhio Poi Abbiamo Yubel Che vince Con Finesmith Tempai Dragon Tempai Dragon Tempai Dragon Voidless Voice Mamma mia Fantasia Eccoci qua Vabbè Non è che cambi moltissimo Ho giocato il 2x della magia Il resto È tutto uguale Trasciando Una Dei Black Glocks Che comunque Fa sempre Comodo Fa sempre Comodo Magari Chiudi addirittura Dei match Con sta carta Quindi Poi abbiamo Il Curifoton L'avevo visto Anche in altre In altre liste Vediamo un attimino Che cosa fa Mandi questa carta Dalla mano Il cimitero E paghi 2000 Non prendi danno In questo turno Ok Se questa carta Nel cimitero Possiamo mandare Un photon Dalla mano O cimitero Eccezione di lui E lo aggiungiamo Alla mano Sostanzialmente È un modo Per non farti Otticappare Perché Nel momento In cui Magari C'hai Anche il tempo E contro Mandi questo qui Effetto rapido Pure in man phase Lo fai Paghi quei 2000 Ma non prendi danno Quindi Vai tranquillo È un'ottima soluzione È un'ottima soluzione Paghi che è Livello Livello 1 Livello 1 Che qui dentro Ci sta molto Molto bene Sostanzialmente Va bene Pure questa È una soluzione Molto buona Guardate in paio Ogni tanto Vediamo la match Mammy Ogni tanto No Necro Valle 2 Necro Valle Però Vabbè Perché Non c'è Rotazione Del 7 C'è Antico Drago Fatato Antico Drago Fatato Più che altro Perché Se c'hai Necro Valle Viene attivato Malamente Necro Valle Sul terreno Manco Puoi riprenderti I mostri Al cimitero Vabbè Insomma Con la print Che Fa secondo posto I mostri Gimmick Puppet Gimmick Puppet Non è così Pericoloso Non è così Meta Cioè Meta Un pochino Non è così Ftk Ti disintegro Ti disintegro L'anima Quindi va bene Quindi va bene Vediamo Tempai Che va a giocare Un po' Ancora Dopo Magna Out Di main Magna Moth Ovviamente Soprattutto Qui è più Giocato Di main Pancra Dopo Va bene C'è Non è male Per me È sempre Una carta Giocabile Pure di main Dragster Dragster Buono Dragster Buono Negate Buono Tranquillo Poi Non costava Niente Labyrinth Poi abbiamo Fensbit Ancende Jubel Fensbit Ancende Jubel Tanta roba Cioè Visivamente Per me È un bel Mazzo Poi è anche Forte Ecco Adesso Questo qui Gioca Anche Il Dis Dai Sera Si Neghi Un totale Di carte Pari Al numero Di Del link Rating Dei mostri Linkati Equipaggiati A lui Che Vabbè Questi Si equipaggiano Sostanzialmente Molto buono Se mi erano Dal cimitero Mischio Un altro Lucideone Dal cimitero Nel deck Extra deck Target Una carta Sul terreno L'amore Del cimitero Poi Ho capito Indagam Non è male It wave It wave È interessante Perché comunque Prendi un turno Prendi un turno E va bene Soprattutto Sempre Magari Ti serve Quel turno In più Vai Smith Jubel Rutto È più forte Snakeai Però Anche Rubel Rutto Ma sostanzialmente Perché Snakeai C'ha più Risorse C'ha più Modo Di Ricicillarsi Il mondo Quindi Ok Per concludere Gimic Puppet Come abbiamo Visto Con Horus Horus Da una Bella Scarica Horus Da una Bella Scarica Perché Tanti livelli 8 Che si Avvano Gratis È in modo Di Ricicillarti Un botto Di roba Quindi va Molto Molto Bene Horus Dun In Mondo Per Questi Deck Chissà Pure Con Galaxy Magari Riesce A fare Qualcosa Con Drago Bianco Horus Blue Ice Con lo Strutturo Deck Nuovo Può Essere Rutto Che Ha anche Un po' Di Senso Perché Kaiba È Un Discendente Va bene Quindi Kimmick Puppet Terrore FTK Al momento Sorvolato Perché Comunque Non ha Fatto Più Della Top 8 L'abbiamo Visto In Determinati In Determinate Tornei Ma Non è Che L'abbiamo Visto Magari Con la Stessa Frequenza Di Un Tempai O Di Un Filesmith Di Un Cent No Più o Men Come Un Cent Sostanzialmente Quasi In Questi Ultimi Meta Quindi Va bene Ci stiamo salvando Cioè Al momento L'Ocg Si sta salvando Speriamo anche noi Perché potrebbe essere Abbastanza pesante Detto questo Ragazzi Fatemi sapere voi Cosa la pensate Ovviamente Se anche a voi Piace questo Filesmith Particolamente Si Anche se Comunque Sappiamo che È sbagliato Di base Però va bene Noi come sempre Ci vediamo In un prossimo video E un saluto A tutti